Buona giornata a tutti, eccoci qua un'altra volta in trasmissione, con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo, che va in onda la seconda parte dalle ore 19 alle ore 20, comunque andremo avanti finché non arriveranno i ragazzi. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo Via delle Vignole 4 Marghera e vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, è un indirizzo postale, casella postale 53 Malostica, Vicenza. Vi ricordo ancora che noi teniamo una conferenza sabato, questo sabato 7 febbraio alle ore 18.30 presso la sala Filt della CGL, praticamente il palazzo della CGL a Treviso, in via Dandalo 2 e ricordo che in quella conferenza esporremo a grandi linee i principi generali della stregoneria e del Paganesimo. Ricordo ancora l'appuntamento è per le ore 18.30, sabato 7 febbraio, ricordo ore 18.30, sabato 7 febbraio, presso il palazzo della CGL, la sala Filt, comunque la CGL poi vi lo indicheranno, via Dandalo 2 e Treviso. È vicino praticamente al cavalcavia che porta la stazione, cioè venendo da Mestre, dal terraglio, arrivati alla stazione si fa un cavalcavia, bene, prima di fare quel cavalcavia lo trovate sulla sinistra. Se invece venite da Treviso per andare verso Venezia, chiaramente lo trovate sulla destra. È una parallela al terraglio che va a sbuccare questa via Dandalo praticamente sotto il cavalcavia. Bene, noi in quella conferenza che si tratta di magia, stregoneria e paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana, vi daremo un quadro generale di tutti i principi. Detto questo voglio parlare ancora un attimo per l'amica Susanna per chiarire il concetto del corpo luminoso. Il corpo luminoso di cui io parlo lo costruiamo sempre e comunque, cioè la vita umana copre lo spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Questo spazio viene coperto dalla vita umana e dalla vita di ogni essere della natura. Scusate un attimo solo. Va bene, grazie, molto gentile. Grazie e buona serata. Dopo li porterò in cooperativa. D'accordo. Ringrazio questo signore che è arrivato, che ci ha portato dei libri in omaggio per tutti gli speaker. Io li lascerò qua e poi ognuno se li prenderà, insomma. Ringrazio questo signore che ci ha portato questi libri. Scusate l'interruzione. Dunque, praticamente abbiamo due atti fondamentali ed è la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico. Ne abbiamo anche altri, ma consideriamo questi due. Lo spazio che ci separa fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico per tutti gli esseri della natura viene coperto dall'attività, l'attività vivente, che se obbedisce ai canoni normali della vita, ai canoni naturali della vita, noi costruiamo comunque il nostro corpo luminoso, al di là della forza con cui lo costruiamo. Cioè riusciamo sempre a trasformare la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. Non sono necessarie le pratiche del crogiore, del ostragone, della meditazione, del sognare. Tutte queste cose nella vita normale sarebbero attività normali. L'uso dell'attenzione, l'uso dell'intento, cioè fare cose con l'intenzione di farle, il prendersi la responsabilità delle proprie azioni, il chiamarle cose con il loro nome. Queste sono tutte attività normali, sono tutte pratiche normali. È solo il fatto che noi le persone sono state messe in ginocchio dall'orrore, cioè attraverso la pulsione di morte, che non è assolutamente... ricordo che non prendo le telefonate, che è necessaria una pratica per liberarsi dall'orrore, per liberarsi dalla pulsione di morte. Per fare questo abbiamo due attività fondamentali. Una è il crogiore dello stregone, è la via alla stregoneria, e l'altra è la relazione col mondo circostante, riconoscendo il divino nel circostante e costruendo delle relazioni. Questo cosa fa? Cosa consiste questa attività? Consiste nel compattare la nostra energia, prendendo la cellula per cellula, facendo diventare un corpo compatto. Come otteniamo questo? Questo lo otteniamo nell'attività quotidiana, cioè nella vita di tutti i giorni. Non è facendo yoga che si impara questo, non è nel sognare che si impara questo, non è nella meditazione che si impara questo. Cioè, la compattazione del corpo luminoso si fa affrontando la vita tutti i giorni, non separandosi dalla vita. Quando noi nel sognare, nella meditazione abbiamo degli ottimi risultati, abbiamo dei risultati che riusciamo a produrre il corpo astrale. Non è la meditazione che ci porta a produrre il corpo astrale. Il corpo astrale, la forza della percezione, l'ampliamento delle capacità psi, noi le abbiamo costruite nell'attività quotidiana, nell'attività di tutti i giorni. Nella meditazione, nel sognare, nella contemplazione, noi abbiamo il riflesso, abbiamo il risultato, abbiamo l'espressione di questo, ma la costruzione del corpo luminoso avviene nella vita di tutti i giorni, avviene usando la propria volontà, le proprie determinazioni, chiamando le cose con il loro nome, usando l'intento, usando l'aguato, cioè vivendo in pratica. Per cui mai separare l'individuo dalla sua vita. L'individuo deve imparare a non sottomettersi, deve imparare a prendere nelle proprie mani la propria vita, perché questo compatta il corpo luminoso, ma non è la meditazione che lo costruisce, non è il sognare che lo costruisce. Per cui è la vita che costruisce il corpo luminoso, non la meditazione, non altre cose. Detto questo andiamo avanti con la trasmissione di oggi, che è sempre Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E per Gesù di Nazareth, l'infamia umana, affrontiamo Matteo. Ci leggiamo il Matteo. Ricordo che io tratto soltanto la quarta parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Cioè tratto praticamente quella parte che va a costruire la relazione fra Gesù e i farisei. Perché questo? Perché la relazione fra Gesù e i farisei, accidenti, questo non lo sto trovando più, la relazione fra Gesù e i farisei è quello che indica alla Chiesa Cattolica come comportarsi, come tradurre l'insegnamento di Gesù nella vita pratica, nella vita di tutti i giorni. Bene, da Matteo leggiamo i farisei e la tradizione. Allora, e poi vedremo come questo insegnamento di Gesù viene tradotto nel rapporto fra la Chiesa Cattolica e il diritto religioso della popolazione dei pueblos. Allora, da Matteo i farisei e la tradizione. Allora alcuni scrivi e farisei venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti non si lavano le mani quando mangiano il pane. Egli rispose loro, perché anche voi trasgredite il comandamento di Dio per la vostra tradizione? Dio infatti ha detto, onora il padre e la madre, come pure chi maledirà il padre e la madre si è punito con la morte. Invece voi dite, colui che dice al padre e alla madre è una sacra offerta, quanto di utile potreste avere da me? Non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre? Così con la vostra tradizione voi annullate la parola di Dio, ipocriti. Ben profetò il profeta Isaia dicendo, questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me. In vano essi mi onorano, insegnando dottrine che sono solo precetti umani. E chiamata se la folla disse, ascoltate e comprendete, non quello che entra per la bocca contamina l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca questo contamina l'uomo. Allora i discepoli avvicinati si gli dissero, sai che i farisei udite la tua parola si sono scandalizzati e ci credo bene, aggiungo io. Egli rispose, ogni pianta che non avrà piantato il padre celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi, ma se un cieco guida un cieco, ambedue vanno a finire in una fossa. Pietro allora presa a diregli, spiegaci questa parabola. Egli rispose, anche voi siete ancora senza intelletto, non capite che quanto entra per la bocca passa nel ventre e va a finire nel cesso? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è questo che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono i cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le formicazioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie, queste cose contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Questa è letterale. Vediamo, commento, i farisei e la tradizione. Secondo l'Evangelista, alcuni farisei sarebbero venuti direttamente da Gerusalemme per chiedere a Gesù perché i suoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi. Così, all'improvviso, alcuni farisei fanno un viaggio per chiedere a Gesù perché i suoi discepoli non seguono le tradizioni degli antichi. O la cosa è talmente importante da sconvolgere la comunità palestinese, o l'Evangelista omette particolari molto importanti. Omissione che notata da Luca verrà completata inserendo le affermazioni di Gesù, modificandole, come vedremo in seguito, durante un invito a pranzo offerte da un fariseo. A Gesù non interessano le tradizioni, interessa colpevolizzare la stante, chiunque gli sia. Secondo la logica di Gesù, chi commette un reato non è colpevole se l'accusatore commette un reato a sua volta. Il fatto che qualcuno sia colpevole di qualche mancanza è colpevole di quella mancanza anche se l'accusatore è responsabile a sua volta di mancanze. La mancanza è tale in sé, il reato è tale in sé, non può essere misurato dall'onestà dell'accusatore. Semmai se l'accusatore commette un reato che innesta una reazione è colpevole di provocazione, in quanto il secondo è la risultante del primo. Ma questo non toglie che la mancanza sia tale nella misura in cui non è legittima difesa. E la mancanza degli apostoli non è elemento di legittima difesa, è una trasgressione finalizzata al disprezzo della società palestinese, che i cristiani vogliono distruggere per appropriarsene imponendo le loro tradizioni. A Roma i cristiani agiranno esattamente nello stesso modo, essi si estraranno dalla società romana, essi non sono romani, essi non sono di questo quell'etnia, essi vogliono appropriarsi di tutte le etnie, pertanto devono distruggere le tradizioni romane. Non dicono a Roma ci siamo anche noi, dicono a Roma mettiti in ginocchio davanti a noi. Con Alarico, cristiano ariano, e provocato sistematicamente attraverso in adempienze di ogni trattato da parte dei cristiani di Ravenna e Roma, porteranno a termine la distruzione della società romana, provocando la miseria nella quale imporranno il loro Dio. Gesù non dice voi sbagliate, ma dice anche voi sbagliate. Dunque Gesù ammette il suo impegno a distruggere la tradizione, e non lo fa per sostituirla con qualche cosa di diverso, ma giustifica la sua trasgressione col fatto che anche i farisei trasgrediscono il comandamento per la loro tradizione. Il comandamento a cui Gesù si riferisce è quello che impone di onorare il padre e la madre. Gesù afferma, non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il padre dal figlio e la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi stessi familiari. Scusate un attimo solo, purtroppo qui c'è qualcosa che non quadra. Dunque, l'obiettivo di Gesù non era quello di riaffermare la validità di un comandamento divino, ma di puro e semplice dominio. Egli doveva imporsi accusando chi lo stava accusando. Egli doveva dimostrare che le accuse venivano da persone che non rispettavano le tradizioni. A Gesù non importava nulla di onorare il padre e la madre. In Marco leggiamo, intanto giungono sua madre e i suoi fratelli, stando fuori, mandano a chiamarlo. Ora, una gran folla sedeva intorno a lui e gli dicono, ecco tua madre e i tuoi fratelli, sono là fuori e ti cercano. Ma egli rispondeva loro, Allora, qui abbiamo saltato un pezzo accidentaccio al disturbo. Va bene. Ma egli rispondendo loro disse, chi sono mia madre e i miei fratelli? Gesù dunque rinnega sua madre, a meno che questa non si sottometta al proprio imperio. Non è forse questo rinnegare? Gesù e gli evangelisti, dunque sarebbe da condannare a morte, eh? Gesù e gli evangelisti sono in malafede. La realtà in questa parte del Vangelo è l'attacco all'elaborazione tradizionale costruita dai farisei. Costoro hanno tentato di elaborare una struttura attraverso la quale conservare il sapere sviluppatosi in Palestina, distinguendolo dall'arrivo di nuove forme filosofiche e di pensiero provenienti dalla Grecia e dall'Oriente. I farisei hanno tentato di costruire un corpus dottrinale con quanto sapevano e di quel sapere costruivano la base della loro esistenza. Magari era criticabile e pedante, ma era quanto avevano e da quello che avevano cercavano di costruire il futuro per quanto discutibile a me appare. In ogni caso era il loro futuro. Di questo futuro Gesù vuole appropriarsi, distruggere la loro base di sviluppo attraverso la distruzione delle loro tradizioni per imporre le proprie folli esternazioni. I missionari faranno lo stesso, eh? A Gesù non interessa soltanto l'adesione, ma la sottomissione totale dell'individuo. Per questo motivo egli cita Isaia, in quanto gli fa comodo identificando se stesso col Dio cui tutti gli esseri umani dovevano sottomettersi. Certamente, davanti al terrore col quale la Chiesa cristiana impone il suo credo, la maggior parte degli esseri umani è costretta a proferire parole di elogio pur disprezzando con tutto il loro cuore il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo che si spaccia per figlio di Dio. Contestando le tradizioni dei farisei, Gesù afferma che quello che contamina l'uomo non è quanto entra nella bocca, ma quanto dalla bocca esce. Gesù usa il momento per imporre quanto egli dice e siccome egli lo dice in quanto volere di Dio suo padre, ogni volta che qualcuno critica quanto dice, ai suoi occhi si maledice e questo lo contamina. Egli ignora ogni singola regola di igiene, ma peggio ancora, egli attacca ogni regola di igiene per la costruzione della miseria. C'è un filo nero che lega il mito delle guarigioni miracolose con la distruzione della conoscenza e la rimozione delle cause che inducono le malattie. In tutti i popoli antichi vigevano una serie di regole attraverso le quali limitare il diffondersi di malattie. Queste regole sono insopportabili per Gesù, in quanto la costruzione della miseria è il suo obiettivo. Solo nella miseria fisica e morale i cristiani possono imporre il loro Dio come solutore dei mali da loro stessi provocati. Hanno ben ragione i farisei a scandalizzarsi. Se nel sistema sociale in cui vivono alcune persone non seguono le norme igieniche, che a quei tempi era ancora più importante la prevenzione quanto una medicina strutturata, inducono malattie all'interno del corpo sociale, è come se al giorno d'oggi i rapporti sessuali con estrani o occasionali avvenissero senza la protezione del preservativo. L'AIDS si propagherebbe ben più velocemente all'interno dell'intero corpo sociale e la giurisprudenza dovrebbe perseguire chi, a conoscenza del pericolo che induce, non assume protezioni adeguate. Ed è proprio in risposta al dettame di Gesù che la Chiesa Cattolica osteggia l'uso del preservativo e predica l'astensione per provocare fobie sessuali all'interno del corpo sociale attraverso le quali diffondere l'immagine del proprio Dio assassino. I farisei hanno ragione a scandalizzarsi. Distruggere la tradizione significa distruggere la relazione che quel popolo ha costruito fra sé e il mondo circostante. Questa necessità di distruggere la relazione intercorrente fra gli esseri umani e il mondo circostante diventerà una costante della storia e del fare della Chiesa Cattolica che sarà sempre impegnata a distruggere la tradizione di ogni popolo al fine di costruire miseria e spacciare il proprio Dio assassino. Non è il mondo che danneggia l'essere umano. Stuprate l'essere umano e la malvagità è la reazione allo stupro. Questo insegnamento è esteso dalle Chiese cristiane e quella cattolica in particolare. L'essere umano la combatte perché è malvagio. Cioè l'essere umano combatte la Chiesa Cattolica perché è malvagio. Non perché lei lo stupra. L'insegnamento è fondamentale. Giustifica il comportamento malvagio del più forte sul più debole. Giustifica il desiderio di Gesù di stuprare gli esseri umani impedendo loro di chiedere giustizia. La costruzione della miseria materiale e morale è sempre stato l'obiettivo dei missionari cristiani che sono sempre accorsi in aiuto e a sostegno degli eserciti colonialisti europei guidando la distruzione dei popoli. Solo le piante piantate da Dio suo padre attecchiranno. Le altre saranno sradicate. Ma Dio suo padre non è il Dio creatore dell'universo. Il creatore dell'universo è parto della sua fantasia. Nella realtà è circondato da esseri umani pensanti. E questi gli impediscono di dire il mondo è mio senza ricevere qualche centinaia di pernacchie. Gli altri sono ciechi. Non lui che mettendosi in ginocchio non è più in grado di vedere la conoscenza e la consapevolezza che cresce attorno. Certo, i ciechi nella via che conduce alla miseria vengono spinti, non la scegliono mai per libera scelta. E Gesù e i suoi seguaci sanno bene come spingerli. Gesù spiega quanto dice. Ma nella spiegazione omette di dire che ciò che contamina l'uomo è il suo non mettersi in ginocchio davanti a lui e di non riconoscerlo come figlio di Dio. Egli, nella sua pazzia, non vede i bambini nascere, non li vede crescere, diventare uomini e donne, non vede la loro lotta per la vita, non vede la loro volontà uscire da ogni poro, non vede la loro tristezza e la loro gioia, non vede il cammino, a volte veloce e a volte pesante, verso la loro trasformazione, non vede la sofferenza delle donne. Gesù è cieco. Nella sua cecità accusa gli uomini di cattivi pensieri, di omicidi, dell'ulterio, di furto, di formicazione, di falsa testimonianze, di bestemmie, e gli dimentica il loro divenuto, dimentica la loro lotta per la vita, dimentica la vuotezza delle sue accuse. Ciò che egli cita non sono reati, sono atti della vita. Perché non ha detto stupro? Tant'è che la Chiesa Cattolica è sempre stata molto tollerante, spesso giuridicamente ammessa dalla violenza e dallo stupro, dall'appropriazione alla falsa testimonianza, all'omicidio, alla strage, alla costruzione di campi di straminio, eccetera, quando tutto questo veniva messo in atto dai padroni sugli schiavi, mentre è sempre stata feroce quando gli schiavi commettevano cose anche molto inferiori, obbedendo alla necessità di rincorrere la libertà che qualcuno aveva rapinato loro. Questo è anche il volere di Gesù, in quanto, secondo lui, c'è sempre qualcuno che si prende la parte migliore della vita. E questo è il commento a quel passo di Gesù. E sfido chiunque a contestarmi questo e a contestarmi l'applicazione pratica ci sia stata dalla Chiesa Cattolica. Sfido chiunque a dirmi che questa interpretazione non è vera e non è autentica, proprio attraverso il fare della Chiesa Cattolica. Certo, qualcuno può, per fantasia, vedere un Gesù diverso, ma non è diverso, è diverso solo per la fantasia, non perché lo sia. Questa è la lettura autentica. E vediamo il diritto religioso dei pueblos. Questo pezzo è tratto dalle religioni nell'età del colonialismo e del neocolonialismo a cura di Puec. Tanto per saperlo. La culturazione, più che derivazione da una colonizzazione macissica, fu frutto di un tentativo missionario dato che fra le tribù pueblos la religione ha un ruolo centrale e qualunque tentativo di cercare di distruggerla era per forza destinato a suscitare un'opposizione. Le tribù pueblos, relativamente pacifiche e stabilitesi nei villaggi agricoli, avevano accolto bene gli spagnoli agli inizi felici di poter approfittare del loro appoggio contro le tribù selvagge e predatrici degli apache. Ma i pueblos avevano una religione molto fervida, molto istituzionalizzata e modellata sulla necessità di ottenere magicamente la pioggia per il loro mais e si resero ben presto conto che i sacerdoti spagnoli si davano da fare per sradicare tutti questi riti sacri e di indispensabili, per rimpiazzarli con una credenza nuova ed estranea di un dio assassinato che veniva mangiato, ma che non aveva nessun potere speciale per far cadere la pioggia. La nuova religione rappresentava una minaccia per i rituali della pioggia che li preservano dall'angoscia, per cui le loro reazioni assunsero inevitabilmente un carattere clandestino ed esplosivo. Nel 1690 tra i Teua, che è una diramazione dei pueblos, comparve un medis man di nome Popè, diceva di essere di ritorno dall'estremo nord, dove aveva visitato il mitico lago Shipapu, il luogo d'origine di Teua, dove ritornavano gli spiriti dei morti. Grazie al suo intervento si verificarono grandi miracoli, non come quelli di Gesù, veri miracoli. Gli spiriti Cacina, emersi dall'acqua sacra, si aprirono rapidamente un varco sottoterra e riapparvero nei santuari sotterrani, chi va, in forma di fuoco, per proclamare alle genti quanto già si aspettavano di sentire, cioè di ribellarsi contro gli odiati spagnoli. Corde annodate di fibra di yuca vennero spedite come messaggio a tutti i pueblos dei dintorni. Il capo doveva sciogliere ogni giorno un nodo fino al momento in cui tutte le tribù pueblos si sarebbero rivoltate contemporaneamente. Nell'agosto del 1690 scoppiò improvvisa l'insurrezione, da Pecus a Zuni fino alle lontane Mesas, pianure degli opi. Soldati e sacerdoti spagnoli vennero massacrati e furono costretti a fuggire. Prima Santa Fe, poi Alpaso. In ottobre non c'era più un solo spagnolo vivo in tutto il Nuovo Messico. Nei due secoli successivi i bianchi non riuscirono a resistere al desiderio di ritornare in quelle zone semiaride, ma i pueblos continuarono a praticare i riti che ritengono indispensabili per far cadere la pioggia, benché le cerimonie solenni siano oggi degenerate in spettacoli turistici. Solo in parte, comunque. Questo è ciò che accade fra i pueblos. Nel 1600 i missionari cristiani decisero di evangelizzare i pueblos. I missionari cristiani obbedivano a uno schema operativo già da tempo collaudato. Il fine dei missionari cristiani era quello di rendere i pueblos sottomessi ed obbedienti al macellaio di Sodome Gomorra, per poi utilizzarli come bestiame da lavoro e merce di pressione sociale, con cui agire per ampliare il potere dei cristiani rendendo più violente ed assoluta l'imposizione della loro morale e stendendola all'interno del corpo sociale. Il progetto dei missionari cristiani di qualunque tipo e qualunque sia il fine che paventano è sempre quello di distruggere la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante per sostituirlo col vuoto la disperazione e la miseria prodotta dalla distruzione della loro cultura, sostituendola poi col macellaio Sodome Gomorra, spacciandolo per misericordioso nei confronti di chi loro stessi hanno trasformato in derelitti. Strappare l'anima ai selvaggi si chiama. I missionari cristiani appaiono nel progetto di distruzione di una cultura in momenti e forme diverse. La prima forma è quella del missionario cristiano che distrugge la cultura per costruire la miseria. La seconda forma è quella del missionario cristiano che coltiva la miseria con azioni che tendono a trasformare la miseria stessa in stato cronico del sistema sociale in cui vive. Il primo missionario incontra un'opposizione violenta da parte della cultura e del popolo che impegna tutto se stesso nello sforzo di non soccombere alla pulsione di morte rispondendo violenza a violenza. Il secondo missionario cristiano deve costruire delle strutture per assistere alla miseria che ha creato per un duplice scopo. Da un lato impedire a quella miseria di superare quella soglia in cui o la situazione imboca una strada di risoluzione attraverso la ricostruzione delle relazioni fra quegli esseri umani e il mondo circostante con problemi che questo comporta o si distrugge o si giunge a una serie di scontri violenti nei quali i miserabili non hanno più nulla da perdere e comunque la loro situazione si risolverebbe sviluppando una contraddizione che li consente di uscire dalla miseria. Dall'altro lato i missionari devono utilizzare la gestione della miseria e le strutture attraverso le quali alimentano come arma di pressione e ricatto nei confronti del comando sociale di quel paese. Il problema per il popolo attaccato dai missionari cristiani è quello di risolvere il conflitto fin dall'inizio. I cristiani sbandierano il potere del loro Dio che ha distrutto Sordobe Gomorra il diluvio universale e che ha mandato suo figlio a far risorgere i morti. Questo è accaduto tanto tempo fa e i missionari cristiani devono imporre di credere ora. I popoli hanno una relazione fra sé e il circostante. Essi si fanno venere nei confronti del cielo e il cielo si fa venere nei loro confronti favorendo la continuazione favorendo le condizioni perché i popoli insieme ad ogni altra specie della natura si trovino nelle condizioni per continuare a svilupparsi senza soccombere a situazioni tragiche. La relazione fra sé e il circostante viene chiamata con un nome e diventa divinità e questa divinità favorisce l'arrivo della pioggia alimentandosi dalla relazione. Non è il fermativento di chi si ritiene padrone dell'esistente ma è ammagliazione dell'esistente attraverso il fare. Della magliare i cristiani si sono appropriati solo nel suo aspetto nero truffare. L'ammagliare era uno dei farei centrali della religione dei pueblos e i cristiani si sono preposti a distruggere i riti attraverso i quali i pueblos praticavano il loro ammaliare. Le tribù dei pueblos erano tribù pacifiche. Scusate un attimo le tribù dei pueblos erano tribù pacifiche. Nell'ideologia cristiana pacifico è sinonimo di sottomesso di debole e di credulone. Dunque per i missionari cristiani chi è pacifico è facilmente ingannabile. Si può facilmente sottomettere. Erano tribù dedicate all'agricoltura anziché alla caccia della rapina. Dunque secondo i missionari cristiani pronti ad accettare volentieri il loro dio. Il problema che i missionari cristiani non hanno considerato era il tipo di interrelazione esistente fra il popolo dei pueblos e il circostante. I cristiani non avevano considerato la profondità della relazione tra i pueblos e il circostante. Su quanti guardiani e su quanti stregoni i pacifici pueblos annoveravano? Non avevano considerato che per quanto pacifici per quanto agricoltori e per quanto subissero gli attacchi da parte degli apache questi non li avevano mai né sottomessi né distrutti. Così il circostante ha plasmato la reazione che non poteva essere di solo rifiuto del dio dei cristiani data la violenza il terrore e le armi con cui i cristiani imponevano i loro riti e cercavano di impedire quelli dei pueblos la reazione non poteva essere che altrettanto violenta. I pueblos subirono pesanti rappresaglie la popolazione iniziale era di 20.000 individui circa oggi ridotti a 6.000 I cristiani non riconoscono il diritto alla legittima difesa nei confronti della loro violenza accettano solo la supplica i missionari cristiani sono mandati dal loro dio assassino e trasmettono il suo massaggio o fai quello che voglio io o ti ammazzo vediamo ora come il comportamento dei missionari cristiani sia in obbedienza ai dettami del Gesù di Nazareth e come il loro comportamento sia ispirato dagli insegnamenti del loro dio i missionari sono andati dai pueblos per costringerli ad adorare il loro dio e quando costoro fecero il loro presente che ne avevano già alcuni con i quali si erano garantiti il benessere infatti non vivevano nella miseria i missionari cristiani hanno detto loro perché voi non adorate il nostro dio seguendo la nostra antica tradizione vedete come siamo potenti noi teniamo lontani i predoni a pascia è il nostro dio a darci questa forza e quando i pueblos rifiutarono di sottomettersi i missionari distrussero con la violenza i loro riti costringendoli all'obbedienza i pueblos seppero abbassare la testa per fondare il principio speranza così i cristiani ebbero a dire questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me così la loro feronia impediva che le catene passassero dai polsi al cervello dalla forma alla sostanza dal subirle all'accettazione che è feronia è un grande potere i missionari cristiani imponevano con le armi i loro comandamenti nel tentativo di distruggere la relazione fra i pueblos e il loro circostante come Gesù di Nazareth tentava di distruggere le tradizioni ebraiche per imporre la miseria e la sottomissione a quel popolo i comportamenti sono uguali i missionari cristiani si comportano esattamente come Gesù di Nazareth aveva insegnato loro quando i pueblos si opposero dicendo ai missionari cristiani che mentre le loro divinità mandavano la pioggia il dio dei cristiani era un buon annulla come utilità per loro in realtà è bravissimo su chiara energia vitale stagnata generata dalla sottomissione interiorizzata i missionari cristiani con i loro eserciti ecco rispondere loro non ciò che entra dalla bocca contamina l'uomo dunque siete senza intelletto i vostri cattivi pensieri vi condannano i vostri omicidi i vostri ulteri le vostre formicazioni le false testimonianze le vostre bestemmie non la violazione delle vostre tradizioni così i missionari cristiani tentarono di distruggere le tradizioni dei pueblos ma il circostante ha reagito è arrivato un catalizzatore che ha concentrato tutte le tensioni i desideri e il principio speranza di quel popolo questo popolo pagò caro il diritto alla libertà della propria fede ma i pueblos ancora oggi continuano i loro riti per sviluppare il dio dentro di sé nel tentativo di diventare eterni e non hanno ancora costretto la loro prole in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra i missionari cristiani hanno intrapreso altre vie per far scordare i loro riti il senso delle loro azioni la percezione del circostante magari inventando qualche forma sincretica inserendo il loro dio nei loro riti ma anche se vengono cambiati i nomi con cui chiamare il circostante la relazione fra gli esseri e il circostante non si fonda sulla forma ma attraverso il loro fare le loro azioni le loro scelte i pueblos hanno conservato il diritto alla libertà del fare per costruire il loro potere di essere hanno conservato il diritto di lavarsi le mani prima di mangiare ripulire se stessi prima di affrontare la morte del corpo fisico e il diritto di rigettare una morale il cui scopera quello di metterlo in ginocchio costringendoli a trasformare la morte del corpo fisico in morte contemporaneamente del corpo luminoso quale altro tributo sono stati costretti a versare per questo e questa è la traduzione dell'insegnamento del Gesù di Nazza questo serve quell'insegnamento perché dico che serve a questo insegnamento perché i Vangeli ufficiali non vanno letti in maniera esoterica sono i Vangeli ufficiali sono gli unici Vangeli che non possono essere letti in maniera esoterica perché sono stati iscritti da individui che erano emarginati da tutte le religioni misteriche e legati alle religioni più o meno rivelate però erano essenzialmente individui emarginati dalle religioni misteriche e loro non hanno mai compreso come le religioni misteriche volevano sviluppare il Dio dentro l'essere umano se voi prendete questo passo che vi ho appena letto di Matteo e lo confrontate col passo analogo di di Tommaso di Tommaso Vangeli secondo Tommaso di Dimos troverete che il senso è completamente diverso cioè il senso di questo passo del Vangelo che è ripulire il fuori e il dentro è che l'essere umano che costruisce il proprio corpo luminoso che costruisce se stesso deve mettere ordine sia nella ragione cioè sia nel modo con cui affronta la vita di tutti i giorni sia nel proprio corpo luminoso cioè deve imparare ad armonizzare le due cose ma questo è un insegnamento delle religioni esoteriche delle religioni adoniste delle religioni siriane ora il termine Gesù era un termine generico di cui chiunque poteva prenderlo alcune persone cosa hanno fatto tipo sto Matteo sto Marco sto Luca sto Giovanni hanno preso questi insegnamenti che non hanno assolutamente compreso il senso e hanno pensato di usare queste cose per costruire delle sette per costruire per ingabbiare delle persone per truffare delle persone e separarle dal contesto sociale e hanno inventato questi Vangeli che a quei tempi questi Vangeli erano merdaccia erano merda non avevano nessun valore davanti ai ragnosi questi Vangeli erano solo delle volgarità cioè praticamente questi Vangeli stavano all'agnosi come il sottobosco della magia da strada da porto diciamo così stava al paganesimo per cui questi personaggi erano veramente dei personaggi squallidi dell'epoca per questo motivo non si può assolutamente trattare questi Vangeli in maniera esoterica diverso invece è il Vangelo di Tommaso Didimus il Vangelo di Giovanni Apogrifo diverso è il Vangelo di Maria il Vangelo di Verità esistono molti Vangeli gnostici che non sono gli apoglifi sono proprio i Vangeli gnostici in cui lo sviluppo della scintilla divina cioè il sviluppo di Sofia dentro l'essere umano ha un altro significato e lo scontro vero che avvenne allora era fra queste due tendenze da un lato c'erano i Vangeli gnostici che dicevano bisogna sviluppare la scintilla divina dentro l'essere umano cioè l'essere umano deve prendersi la responsabilità della sua esistenza dall'altro lato invece abbiamo i Vangeli ufficiali quelli che diventeranno i Vangeli ufficiali che dicono dobbiamo mettere in ginocchio l'essere umano dobbiamo farlo funzionare per noi dobbiamo fare in modo che l'essere umano anziché sviluppare il Dio che ha dentro rinunci alla propria energia rinunci alle proprie determinazioni si mette in ginocchio e noi ci appropriamo questo è il vero scontro che avvenne allora e fu uno scontro che la Gnosi perse perché la Gnosi perse quello scontro essenzialmente per una cosa precisa la Gnosi perse lo scontro perché i Vangeli i Vangeli gnostici arrivati all'inizio del tempo all'inizio dei mutamenti cercavano il Dio creatore e lo presero dalle religioni rivelate questo loro cercavano effettivamente la coscienza creatrice e non la trovarono anziché dire non esiste la coscienza creatrice e volgere in altro modo lo sguardo loro dissero esiste un Dio sconosciuto cioè si arresero davanti all'immagine di un Dio sconosciuto che era inarrivabile per un qualche motivo e dissero non esiste esiste il Dio sconosciuto che ha creato l'universo questa fu la loro sconfitta se in questo momento da lì in poi si inserì tutto il processo di distruzione di quello che è il pensiero gnostico perché? perché è più facile distruggere il presente che costruire il futuro cioè è più facile appropriarsi di quello che esiste adesso che non pensare di costruire il futuro che non pensare di lavorare per costruire il futuro è molto più facile fregarsi una fabbrica che già c'è e licenziare mezzi operai che non costruire una fabbrica e assumere della gente cioè è molto più facile saccheggiare il presente che non costruire il futuro e i Vangeli ufficiali avevano questa funzione quella di saccheggiare il presente appropriarsi degli esseri umani costringere gli esseri umani a lavorare in funzione di quello che è il il patrio di Nazareth cioè quello che dice mi sono il prono del mondo mi sono il fio di Dio e ti ti metti in senoccio ti ti si malvagio perché non ti ti metti in senoccio solo la pianta che go pianta a mi la polcressa sta altra e le va distrutte questo è il concetto cioè distruggere assolutamente il presente distruggere tutto ciò che può costruire il futuro questo è l'insegnamento dei Vangeli ufficiali chiaramente questo non si vende cioè questo qua si maschera si maschera come la bontà del padrone la bontà di quello che si appropria degli esseri umani ma la bontà nasconde l'appropriazione nasconde il desiderio di distruzione questo bisogna tenere presente cioè non esiste un Gesù buono nella misura in cui si appropria esiste una persona buona nella misura in cui costruisce un sistema sociale nella misura in cui cerca di cambiare le cose pronto? solo cercando di cambiare le cose solo cercando di costruire la vita si può essere positivi per il sistema sociale e per la vita che andiamo ad affrontare altrimenti non siamo positivi per la vita altrimenti saccheggiamo la vita e questo dobbiamo sempre renderci conto cioè l'attimo presente in cui viviamo è un momento in cui diciamo bene c'è qualcosa che non va benissimo comincio a costruire una strategia affinché quella cosa che non va venga rimossa ma non distruggo un sistema sociale perché quella cosa mi sta sulle scatole cioè non dico muoè a Sansone con tutti i filistei non vado a distruggere il tutto per un qualcosa che mi dà fastidio cioè non faccio non metto una carica di dinamite in casa solo perché c'ho una zanzara che mi punge questo è follia questa è imbecillità e questo purtroppo è quello che hanno fatto i cristiani scusate vediamo io ho un altro piccolo argomento da portare avanti e qui ho finito per oggi del Gesù di Nazareth l'infamia umana per quanto riguarda il discorso con l'amica Susanna che mi ha detto prima del corpo luminoso in stregoneria ci sono quei comportamenti nel paganesimo e mi riferisco al paganesimo romano e prendo questo quello che sto dicendo adesso dal libro ciò che porta a diventare eterni nella religione romana c'è un capitolo che tratta dei guardiani che portano a diventare eterni della specie umana praticamente cosa succede che ogni volta che noi facciamo un gesto creiamo una divinità quando c'è un bisogno nella nostra specie creiamo una divinità ti dico solo l'elenco delle divinità che io ho usato come guardiani che portano a diventare eterni nella religione romana non ti leggo il senso sto libro lo leggerò anche questo cioè finito la quarta parte Gesù di Nazareth l'infamia umana poi mi prenderò il sentiero d'oro le immagini della religione romana poi mi prenderò questo poi mi prenderò il libro sulle esperienze di premorte poi mi prenderò spero di aver portato anche a termine il libro sulle sulle religioni misteriche cioè un po' alla volta vi leggerò tutto i guardiani io ho usato questi guardiani e penso di aver ritrovati quasi tutti fede fortuna fuga onos invidia libentina mens modestia mutino occasione odoria peta pietas pigrizia pollenzia prudenza pudicizia quiete ridiculus salus semosanco senectus tacita sorte speranza tosse tutano verità verticordia vertumno vigilanzia violenzia viriplacca virtus vittoria vitula volturno volumna e volumno questi guardiani messi insieme formano quello che formano quello che il vediamo un attimo al limite prenderò uno abbastanza breve da ecco prendiamo questo che è anche considerato un peccato capitale invidia te lo leggo da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana invidia è un grande guardiano del divenire umano invidia era raffigurata come una vecchia orrenda con serpenti per i capelli e un serpente che le rodeva il cuore questo centro di energia vitale appartiene soltanto agli esseri umani che lo forgiarono nel momento stesso in cui formarono la ragione la ragione dice agli esseri umani come sono e che cosa devono fare la ragione rassicura gli esseri umani del loro ruolo e del loro esistere in relazione al suo descritto la ragione di ogni singolo essere blocca ogni singolo essere umano all'interno del suo descritto la ragione si reputa padrona dell'essere umano ma non vive sola vive in relazione con altre ragioni con altri pretesi padroni di altri esseri umani la ragione si spaccia padrone ed assoluto nei confronti del singolo essere umano ma è costretta a prendere atto che altre ragioni padroni di altri esseri umani hanno agito ed operato in modo tale che altri esseri umani vivono in condizioni o in relazioni più soddisfacenti la ragione ha dunque mancato ha preteso il dominio dell'essere umano ma non lo ha ripagato come altre ragioni hanno ripagato altri esseri umani oppure se preferiamo come altri esseri umani sembra essere stati ripagati questo dubbio questa insoddisfazione dell'essere umano è l'azione di invidia la ragione ha preteso il dominio dell'essere umano ma non ha ripagato l'essere umano come millantava di poter fare l'essere umano sospetta che la ragione lo abbia ingannato questa è la prima percezione dell'azione di invidia la ragione ha preteso senza ripagare ogni essere umano è eroso da tale dubbio ogni ragione subisce l'assalto di invidia ogni essere umano subisce o la disperazione della sottomissione o l'insoddisfazione generata dalla necessità di forzare i limiti invidia è un grande guardiano del divenire umano impedisce all'essere umano di assoggettarsi alla ragione impedisce all'essere umano di annullarsi nella ragione subendo nella tirannia invidia trasmette l'impulso del desiderio di libertà attraverso il quale l'essere umano tende a sottrarsi al controllo della ragione la ragione dirotta questo impulso attraverso gli elementi della sua descrizione sviandolo verso elementi rassicuranti invidia dice la ragione spinge all'idea cose non congeniali negative irraggiungibili dunque questo sentimento deve essere soffocato in realtà invidia spinge l'essere umano affinché esca dalla prigione della ragione dai suoi limiti dal suo descritto dai suoi obiettivi puramente apparenti soffocare invidia significa soffocare una delle forze che spingono l'essere umano ad uscire dall'autodistruzione la ragione dice muoia Sansone con tutti i filistei se la ragione non è in grado di possedere l'essere umano allora che questo venga distrutto l'essere umano deve alimentare invidia a poco a poco chiedendosi sempre che cosa voglia cosa voglia egli come essere e cosa invidia spinge a volere se l'essere umano riesce a superare la descrizione attraverso la quale la ragione impone invidia saprà verso quali mete dovrà e potrà marciare nel far questo metterà ordine nella sua ragione costringendola a mettersi al suo servizio prendendone il controllo e il dominio invidia aiuta l'essere umano a controllare la ragione spesso l'essere umano non giunge ad invidia spesso si frana nella descrizione che di invidia ne dà la ragione e così facendo aumenta la forza attraverso la quale la ragione lo domina e lo controlla la ragione insegna l'essere umano a rendere muta la voce di invidia a rendere incomprensibili e assurdi i suoi richiami è la paura della ragione è la stessa paura che farà bruciare i libri che aiutano a pensare ascoltare sviluppare creare il silenzio costringendo la ragione a subire le voci del circostante per liberare l'essere umano dalla costrizione della descrizione della ragione invidia è un grande guardiano del divenire umano che combatte una battaglia quasi disperata nei confronti del dispotismo della ragione da un lato spinge l'essere umano a sviluppare la sua ragione costringendo quella che lo controlla considerando quella che lo controlla inadeguata e limitata dall'altro spinge l'essere umano a superare la ragione per sviluppare il proprio divenire in relazione col circostante attraverso la soddisfazione dei propri bisogni di eternità la raffigurazione di invidia fatta dalla ragione rappresenta quanto la ragione attraverso la sua descrizione abborrisce essere vecchia per la ragione equivale a decadimento nella realtà equivale ad essere più antichi il disfacimento avviene solo nell'ambito della ragione altrimenti c'è la rigenerazione i serpenti sono orribili solo per la ragione in quanto rappresentano uno stadio di divenire dell'essere umano in cui la ragione non faceva da padrone il serpente che roda il cuore per la ragione equivale ad un tarlo che distrugge un centro vitale statico mentre in realtà il serpente rappresenta lo stimolo del cuore essenze dell'individuo a cui la ragione non ha accesso in quanto il cuore pulsa in modo autonomo dalla ragione affinché continui a trasformarsi e a divenire questo è un guardiano del divenire umano vengono date una serie in realtà dal libro ciò che porta a diventare eterni nella religione umana vengono trattati quelli che sono gli aspetti attraverso i quali il paganesimo il paganesimo costruisce l'essere umano esistono dei guardiani per esempio esiste una divinità che aiuta aiuta fra virgolette il bambino a stare in piedi cioè quando il bambino impara a camminare imparare a camminare è un fare così importante così grande per la specie umana cioè è una delle sue tappe per cui diventa un fare divino e diventa una divinità in sé che cerca di trasmettere immediatamente a tutti gli esseri umani di imparare a camminare il più presto possibile di camminare eretti il più presto possibile e questo è una grande divinità pronto è pronto dimmi mi sono laurente Alfredo come fai a parlare io di costruire che quando qui aveva il potere e ha distrutto tutto e sarà sempre così e sarà sempre così ah sarà sempre così adesso mi dispiace adesso il discorso che io voglio spiegare a me no nel 95 quando chi è mafioso e di gris mi ha casato in presione che mi ha distrutto e mi ha distrutto i miei 13 anni che ho lavorato in fornata e adesso cosa dovrei dirmi ora che mi ha distrutto tutto dovrei rassegnarmi sia paziente o tacchetto dopo che mi ha fatto fare che si è media e mezzo in presione i quattro camoristi del gris da del moyam che farò sempre pagare no mi adesso diventano cammino distruggetore prima o dopo che avvi la sporca e abbrudumi ma ti pagherò la vendetta del paganismo perché deve arrivare così no no non d'accordo deve arrivare così perché fa pagare i camoristi del gris tanto che mi sono permesso anche di avvisare gli organi competenti che il mio mancato che costerà la villa prima o dopo che ha bruciato che ha sporco che ha villa mi spiegano che sia sporchi in reto così si può arrivare a teori va bene ho capito ciao ciao allora va bene io ho capito che qua ci sono forti tensioni però parliamo anche della vendetta nel paganesimo e in stragonaria che cos'è la vendetta è una reazione violenta a un torto subito una persona subisce un torto e a quel torto reagisce ora esistono due modi per reagire e per costruire la vendetta esiste un modo immediato che è quello che viene usato anche dai cattolici viene tollerato nel sistema cristiano ed è quello che tu occhio per occhio dente per dente tu fai un danno a me io faccio un danno a te questo è quello che normalmente fanno i cristiani in forma diversa poi a seconda della cultura si avvolge cioè praticamente io ho subito un danno dunque mi ritengo in diritto di farti un danno a te nel paganesimo e in stragonaria le cose sono un po' diverse nel senso che se tu fai un danno a me io cerco di reagire ma c'è una possibilità di vendetta ben più grande ed è quella di impedire a te di non fare più nessun danno a te o a chi tu rappresenti vediamo un attimo pronto? pronto sai sono cammino pagano di me sono un cultore della cultura celtica dei druidi dei monti sacri che mi fanno subito nel monte sumano ogni tanto guardi lì so di cercare qualcosa perché secondo che i latini sono in sui occupati di quanto mi hanno fatto straie che hanno sodomizzato le nostre radici celtiche perché i druidi che sono ancora che sono ancora sento le potenze dei druidi e non ti raccontami la paia la ruana che è una forza decimbrica e tutto quanto ma ti senti la forza e questa è magia e ora mi riconvungo con il discorso che ti senti a farti dei druidi del paganesimo dei druidi e stiliatini e stai da rovino dei druidi dei celtici i latini con la chiesa cristiana ricordiamoci dei latini io sono un cultore del celtico spiegami dei druidi per favore e dei celtici adesso mi trovo il telefono e questo tipo a radio grazie ciao allora io non ti parlerò né dei druidi né dei celtici perché motivo perché innanzitutto io ho studiato più che altro e quello che mi interessa di più è il paganesimo romano e il paganesimo mediterraneo questo non toglie che nei druidi né i celtici non ci siano delle tradizioni pagane estremamente importanti estremamente forti se tu hai seguito le nostre trasmissioni precedenti abbiamo parlato dei paganesimi nordici però non mi interessa tanto parlarti dei druidi dei celtici per il semplice motivo parte il fatto che non li conosco li conosco male per cui qualcun altro potrebbe parlarti di più e il secondo non te ne parlo per il semplice fatto che esistono dei paganesimi che si legano molto ai celtici in forma in forma appropriatrice cioè nel fatto che sembra che alcuni riti celtici vengano usati per appropriarsi delle persone e siccome a me queste cose non piacciono nel modo più assoluto e categorico quello che mi interessa di più è costruire il principio cioè costruire il senso filosofico della cosa e far capire che cos'è il paganesimo anziché il cristianesimo e questa è la cosa più importante dopodiché io so benissimo che esistono sia dei druidi seri che praticano la magia sia la maggior parte dei druidi che abbiamo qui attorno la maggior parte dei celtici che abbiamo attorno sono dei grandi castroni che fanno delle grandissime cacciate e che stanno tentando di inquinare il pensiero se dopo tu vai a farti i riti sul monte e sul mano vabbè vai sul monte e sul mano vai come vuoi quello che tu senti è quello che tu senti io non discuto il sentire delle persone mai e questo qua è tutto andiamo avanti invece a quel discorso della vendetta che mi interessa di più perché mi interessa perché mi dà lo spunto per fare un discorso per me importante se io devo vendicarmi di di un industriale che mi ha trattato male di un centro che mi ha si è comportato male io devo fare in modo che quel centro quell'industria o quel settore di persone non possa più danneggiare nessuno e questo non lo faccio avendo una vendetta spiccia lo faccio mettendo in essere delle operazioni che mi consentono che questo non avvenga più faccio un esempio i dolciniani per esempio siccome loro ritenevano che i preti ricchi danneggiassero i poveri andavano dei preti ricchi e li sparavano cioè non li sparavano perché non so se ci fosse le armi da fuoco non credo comunque li ammazzavano bene questo modo di fare vendetta è strettamente cristiano nel senso che è occhio per occhio dente per dente tu fai del male a un poveraccio e io faccio del male a te che tu sei ricco mentre invece la vera vendetta è quella di fare in modo che non esistano più poveracci cioè quella di fare in modo che non esistano più quei principi che vanno a costruire malvessazioni che vanno a costruire prepotenze nei confronti dei più deboli questo è la vera vendetta e il paganesimo la stragoneria portano a fare questo tipo di vendette non il tipo del sparamento spiccio quel tipo di sparamento spiccio è un tipo di vendetta molto cristiano fa parte proprio del cristianesimo cioè fa parte della bibbia occhio per occhio dente per dente è un tipo di vendetta che può servire immediatamente più che altro serve come legittima difesa però non ha nessun valore dal punto di vista pagano dal punto di vista della stragoneria se qualcosa non va bene se qualcosa non funziona si mettono in essere tutta una serie di strategie affinché questo venga eliminato non sarà questa generazione sarà fra tre generazioni sarà fra centocinquant'anni ma un pagano un apprendista stragone è un essere eterno cioè lui ha già raggiunto la percezione della propria eternità per cui può fare delle strategie può mettere in essere delle operazioni che vanno oltre la sua vita perché tanto lui è già eterno visto che qua a quest'ora non si vede ancora nessuno arrivare io vado avanti ancora qualche minuto e poi metterò su un po' di pubblicità e aspetterò che arrivano i ragazzi vediamo un attimino per sabato sabato vediamo un attimo pronto? ciao Susanna ho ascoltato con attenzione quello che hai detto e volevo chiederti un'altra cosa sempre sul corpo luminoso una volta in trasmissione tu avevi detto che per esempio che il corpo luminoso cioè quando uno muore si congiunge con il sole non come dicono i cattolici che terra ritornerai Susanna sei in interurbana? sì allora finisci il discorso poi ti rispondo per radio sì non come dicono i cattolici che terra sei e terra ritornerai ma diventerai il sole ecco mi ricordo sì certo questo l'ho detto qui certo ecco se magari ti ho precisato grazie prego allora precisiamo questo concetto io mi ricordo quello che tu quello a cui tu accenni scusa ma purtroppo bevande sto facendo un po' di illustrazione per la conferenza cioè mi sto preparando psicologicamente e fisicamente e anziché bere vino o birra normalmente sto bevendo bibite da un mese e mezzo per cui ho qualche rutto di troppo scusatemi per questo il discorso quello che tu dici è noi eravamo sole e sole diventeremo l'ho detto quando ho parlato dell'entità sole il sole è la più grande entità in questa parte di spazio nel paganesimo e in stregoneria esiste questo specialmente in stregoneria più che nel paganesimo l'attività dell'individuo è la ricerca della libertà in pratica cosa succede che all'atto della morte del corpo fisico qualora abbiamo messo in essere tutta una serie di operazioni noi riusciamo ad essere liberi cioè a continuare le trasformazioni senza dover sedimentarci con nessuno cioè abbiamo forza sufficiente per essere indipendenti poi non so per quanti cicli per quanti cicli questo avvenga però siamo in grado di fare questo dopodiché però esistono la formazione di altre variabili cioè il corpo luminoso non sempre anzi quasi mai è così forte per essere indipendente ha bisogno di sedimentazioni per continuare a riprodursi per continuare a svilupparsi una di queste sedimentazioni e vi vieni pure non ti preoccupare una di queste sedimentazioni è con l'essere terra un'altra di queste sedimentazioni è con l'essere natura la terza sedimentazione è con l'essere sole queste tre sedimentazioni corrispondono a tre gradi di forza con cui l'individuo riesce a partorire il corpo luminoso e a proiettarlo però anche se lui si lega alla terra lui comunque è riuscito a partorire il corpo luminoso soltanto che ha bisogno della terra cioè si integra con la terra per riuscire a mantenere la coscienza per riuscire a svilupparla perché dico che noi siamo sole e sole diventeremo perché quando alteriamo la percezione e afferriamo il corpo luminoso il corpo luminoso è luminoso cioè effettivamente si vede di colore luminoso e il colore è sempre un giallogno è sempre il giallo ed è lo stesso colore del sole dopo esistono altre variabili dei subcolori con cui si può leggere le emozioni delle persone e altre cose però è sempre colore del sole e quello che è importante per noi non è il corpo fisico cioè il corpo fisico nel Paganese ma estragonaria è solo un modo con cui l'energia vitale si compatta e fa partorire il corpo luminoso per cui è una cosa molto temporanea un pagano e uno stregone non hanno bisogno di mantenere il corpo perché dopo deve risorgere perché senza il corpo non si sa cosa fare nel Paganesimo c'erano le pire in cui si bruciavano i morti cioè i corpi venivano bruciati l'importante era il corpo luminoso l'importante era il corpo luminoso che nasceva al lato della morte del corpo fisico poi il corpo puoi darlo tranquillamente ai vermi puoi tranquillamente buttarlo via la sua missione l'ha compiuta per cui questa luce questa luce che si può vedere in tutti i viventi in tutti gli esseri viventi e anche nelle cose è di colore giallo ed è un pezzo di sole perché l'energia vitale del sole è l'energia vitale del virus è l'energia vitale dell'uomo per cui noi come pagani e come apprendisti stragoni siamo sole e sole diventeremo cioè la nostra energia vitale è esattamente come quella del sole e diventeremo sole nel senso che riusciremo comunque a risplendere sia che ci stratifichiamo con l'essere terra sia che ci stratifichiamo con l'essere natura io non so se stratificandosi con l'essere terra l'essere natura e l'essere sole si perde immediatamente la coscienza e la consapevolezza di se stessi questo io non lo so perché io ho solo la visione dell'essere libero però c'è la possibilità di mantenere la consapevolezza e il ricordo e comunque continuare a trasformarsi sono certo di questo bene anche per l'amica Susanna spero di avergli dati le date queste spiegazioni e questo essere eravamo sole e sole diventeremo era in contrapposizione al cattolico eravamo polvere e polvere diventeremo cioè noi abbiamo bisogno di orrore noi siamo gloria e resteremo gloria nel senso che siamo campo luminoso bene sono arrivati ragazzi io chiudo qui la trasmissione vi ringrazio per avermi ascoltato vi ricordo che sabato otterremo la conferenza alla CGL di Treviso la CGL ci ha prestato la sala la sala Filt in via Dandolo 2 a Treviso alle ore 18.30 la conferenza è magia stregonaria paganesimo come liberazione dell'oppressione cristiana in 50 minuti vi esporò i concetti principali dopodiché Francesco farà un intervento non so su cosa comunque sul paganesimo in generale cioè sulla tradizione pagana dopodiché ci seguirà il dibattito e chiunque potrà dire ciò che vuole insomma e chiaramente là siamo noi che diciamo così dettiamo quello fare per cui io non vado dal Papa a rompergli le palle direttamente io parlo da una radio se parlassero una radio cattolica mi taglierebbero immediatamente per cui regolatevi di merito dopodiché la sala è aperta e si può intervenire si può fare domande si può disquisire si può anche non essere accorto ma tanto più di tanto non è che mi interesse bene vi ringrazio per avermi ascoltato a trasmissione Magia Stagonaria Paganesimo a giovedì prossimo continueremo il crogiolo del male e continueremo a leggere Gesù di Nazareth e l'infamia umana dopodiché passeremo agli altri libri arrivederci e a risentirci e grazie per la pazienza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti